se si sente però non sento nulla per ora un sento nulla voi mi sentite a ecco la notifica dopo un po però strano perché non c'è l'audio dovrei sentirlo ora gli arrivano no e non si sente l'audio via ah no si sente ma arriva dopo a me e allora si brava che 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 la titanza della trenza impressionante va beh mi è arrivato l'audio a me dopo un minuto che sto dicendo fa senti a ora è arrivato da quanta gente stamani ma che scherzi camo muto se no e vi parlo sopra o vai ma tutto a posto se poi c'è qualcosa non me lo dite in diretta diretta improvvisata o allora bucaioli che bufai sera a casa siete scrivetemi scrivetemi ma che cosa questa direttina improvvisata stamani è nulla voglio leggere documenti volevo dire un pochino mi volevo fa compagnia visto siamo tutti in casa e va allora ma ora si è bloccato ma in manchester aspetta voglio fare una cosa non ho accesso il potenziometro di internet ti metto la fila saldivo eh oh vai riecomi riecomi vediamo se si risblocca vediamo se si risblocca ma vedo che è bloccato ti è bloccato a me no qui ma di che è bloccato allora va scatti si ora sono sparito ah aspetta tengo questa pagina perché se no si sente oh vai ho tutto a posto no ti prego non ci credo qua ciao luca ciao salvatore ardo se zappa in svizzera ah 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 il freschino allora cinzia sono a casa ciao cinzia ma tu sei veramente quello che fa le voci ma in manchester ma e sono io e sono io ma tu dici te ma tu dici te saluto alessandro martini che vedo sta guardando o anche o belli della diretta purtroppo siamo fermi ragazzi tutti tutti quelli che ci chiedono ma quando dove siete o belli e siamo fermi ora purtroppo è un periodo per tutti e quindi anche oggi io dovevo fare delle cose con daniele ci si doveva vedere si doveva fare delle prove si doveva scrivere dei pezzi nuovi per lo spettacolo nuovo ma purtroppo siamo quarantena lui a lui a quadrata io a prato e quindi non si può sortire gin tonic di robertino però perché voi siete tutti neri tutte le scritte nere che gli è che gli è cambiato stamani che gli è impazzita anche facebook cioè non mi fa cliccare su di voi come se fosse tutte band tutti bannati foste tutti bannati strano però strano strano questa cosa allora ragazzi io in questi giorni vi farò compagnia con delle ricettine nove fatte anche stamani ero alla ricerca di alcune ricette o altre cose la si guarderà e quindi e niente siamo qui come tutti ma anche se so che a giro c'è così di gente perché vedo da commenti giustamente chi va a lavorare e vi andare a lavorare anche si porta a casa allora voglio andare a vedere un pochino la situazione generale generale dietro la collina ci sta la notte buona assassina allora un attimo di vasco rossi ma un piccolo momento di vaschiano allora e potrebbe essere anche adriano proprio perché lui è forte e andiamo a vedere e noi aspetta se si trova se si trova non ho sbagliato rimesso la diretta allora si è un fatto colazione ancora sì che voi avete fatto colazione stamane dice luca e gin tonic che no la gin tonic robertino a colazione gli ha un po peso credo magari ecco l'unico posto sicuro da robertino da robertino si può andare a fare la beuta perché è tutto sterile gli esterilizzano direttamente nell'acqua di fosso nello scolo dell'acqua pizzeria in colera lava le stoviglie nelle bue della statale con il sudicio appunto anche a anche da lui la pizzeria in colera si può andare a mangiare perché gli è un posto igienico l'asli ha detto mai tu potrei andare allora si senti a son piglio fiato e quanta gente di 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 martedì mattina quasi 200 persone ma successo evidentemente c'è tanta gente in casa davvero però voglio leggere commenti che stamano ho letto delle cose ho fatto delle risate io stamani è vero voglio leggere commenti di quelli che non ci hanno capito nulla se c'è quello lo dicano da per quello ma io non ho capito io non mi ha capito ancora e che bisogna fare c'è pieno è c'è pieno c'è pieno che poi io vada sono andato c'è il sito basta andare sito della repubblica italiana c'è invece su facebook e tu vai sul sito della repubblica italiana c'è scritto tutto in tutti i sbagli però voglio leggere commenti sulle pagine 6 di se ne ha un pochino che gli hanno scritto su 6 di se non dico quale paese sto leggendo ma tanto si vede anche a voi perché sennò dopo si si riporre il chiaro verde copia and colla le fasi di fino ai 3 aprile allora un pochino di un sorto di un sorto no qui sono abbastanza no è che gli hanno scritto vedo c'è una discussione no qui c'è chi tra pochi giù qui sono abbastanza allora posso il classico su questo sei di sé scommetto che sei di sé è difficile è difficilissimo tenere gli anziani e i bambini in casa è difficile gestire la cosa ma che è difficile si mangia inverno ma devo andare a giro a fare cosa cosa vai a fare dopo cena in giro stai a casa come sempre forse luglio gli è freddo gli è umido c'è sordi ora tutti vogliono sortire ora tutti vogliono tutti sento l'esigenza di sortire fuori forse e poi la gente anziana sta sempre in casa quando è che sorti la sera non ho visto io vecchi a fare la beuta per dire ma baia baia e si vai scandalo la congelaria piena ma senti quello non è un problema mio perché io la congelaria piena c'erano due sempre eventuali scene all'ultimo minuto io c'ho sempre il gallettino di congelatore pronto sì che macedonia ciao base base non so come si legge ho ritrovato i monifoli monifoli i monopoli forse tu dici eh va capito i puzzle io per dire ho fatto un puzzle di 3.000 pezzi si è fatto poi c'è Barbara D'Urso si guarda Barbara D'Urso si guarda il grande fratello si guarda tutte queste cazzate in televisione non ci carbano si guarda e che c'è poi eh in dove c'è polemica in dove c'è la discussione in dove c'è Mario Gioglio ma via ci si diverte giù una telenovelas beautiful ci sta un pochino a vedere che viene buongiorno Yuri sei collegato ma anche con i belli della diretta e no non credo che si sia partita in diretta anzi fa una cosa se tu mi segui ancora Alessandro provi a ricondividermela su belli della diretta perché io ieri avevo provato a condividere una cosa sull'altra pagina ma non me l'ha fatta condividere strana questa cosa Miteo Mera Mera Ricette ciao grazie Francesco a volte ci fanno i sottotitoli su alcune battute visto ah si è vero questa dei sottotitoli me la state chiedendo tutti e allora sui video mettere sottotitoli ma nemmeno non mi ha impestata la no sa lunga mi fa fatica ma sulle vignette lo voglio mettere ora si guarderà anche su si farà qualche insomma non lo chiedo prima dopo mi copriano tutti che se dici che devo fare domani lo fanno gli altri quindi poi lo vedrete lo vedrete fammi vedere che c'ho la e ho la bocca secca come genetano bevo ah ecco ecco fatti no vedo tanta gente stamani ecco l'ho capito allora andiamo a vedere che gli scrivano nel frattempo gli italiani sono a casa non dimenticate no questa non la leggo perché è politica non ti riconosco mai visto tu usare l'armatia italiana madonna e coglioni quelli che chiedono scrivere la granada io non siamo sui facebook e non siamo a scuola c'è un errore pace e umore nessuno chiedo informazioni per la messa no via ragazzi che coglioni ho queste messe avete rotto il cazzo voi e la messa io non c'ho una cosa non sopporto di tutta la parte come si fa per la messa non c'è andato vi ho pregato a casa tanto degli astesi ma Dio vi sento uguali se vi ucciderete e vi sento uguali non c'è problema ad andare alla messa a anzuppare le mani nell'acqua marcia quindi via ragazzi diciamo cazzate la messa gli aspetta oh ma tutti hanno questa messa un po' fa un delinquente questo l'ho già letto si c'è uno dice che ci sono lavri a giro ma ora con tutta la gente in casa lavri gli hanno un pochino gli hanno un pochino diciamo dice per favore non date le indicazioni sulle persone contagiate e dove sono state per questione di privacy ho capito ma se non si sa è privacy allora decidevi dice per favore non date assolutamente le notizie di persone contagiate e i posti hanno frequentato o le indicazioni di riservo perché questa non è la privacy ma quale privacy bisogna dirlo invece bisogna dire io ho avuto per dire uno che ce l'ha avuto lo deve dire non c'è la privacy per nulla dovevi chiarare che privacy solo un infermiere un tecnico di laboratorio nessuna figura di professionale hanno rispettato un altro lavoro non affollata io vabbè certo si sa non affollate certamente è possibile che non ci siano mi diverte a leggere i commenti perché tanti non li posso leggere perché c'è partiti di mezzo non li posso non li leggo è possibile la farmacia di turno ma io penso le farmacie sono aperte non chiuse chi l'ha detto sono chiuse ladri attenzione ladri ma guarda quanta gente scrive c'è ladri occhio c'è ladri dice chi sono ladri a giro fra Quarrata Prato allora buonasera ottima ma vediamo il che vu scrivete voi vai vi leggo due commenti agli occhi so chiusi che gli è colpa delle canette no c'è un faro qui davanti tu lo vedi a led di 5000 led e un altro di qua poi ce l'ho sempre so chiusi si è un piacere sentite dai vivo almeno si drammatizza si fa per drammatizzare via l'acqua dell'arno ma fatti non ci si terrorizza con l'acqua dell'arno ci importo scherzo bisogna essere attenti bisogna lavarsi le mani io non lo dico perché se no voglio diventare paddoso sono di foggia è permesso fare jogging jogging a me dall'apruzzo ciao federico ciao rosa ciao francesco si va a sembramento si va a pescagne allora riusamente con le mani verce ciao ciao lorenzo presidente del consiglio detto io ci avevo pensato a fare un sì ora si va dopo l'ultimo omar ciao omar vedo stare guardando la trasmissione omar monti un saluto a omar monti ciao poi vediamo un pochino un saluto ai campani ciao luigi campania campania ci vuole il vino io la mattina ma questo è il vino bianco eh se cominciasse a bene il vino la mattina all'undici grazie io scherzo ma non bevo neanche a tavola sicché io sinceramente di la verità bevo solamente un po' di vino a tavola la sera il sabato il venerdì la domenica poi fra settimana avevo solo acqua quindi che c'entra d'estate una birra sulla beve stare perché la gente crede a tutto che dove diceva visto già fatto la scena di vino allora vuol dire bevi stasera in pizzeria rigorosamente con le mani verci e arriva in stagnene saluto a Napoli ciao un saluto a tutta Napoli ciao Vincenzo un salutone dalla Germania Mario un saluto ragazzi dalla Germania da Puglia ma che scherzi da Darno da Firenze da Pistoia da Prato da 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 Impoli da Montecatini dalla Germania si l'ho già detto aspetta ritorna a leggere qualche commento canzo aspetta aspetta dai ora si è bloccato bello che mi andiamo su no voglio far vedere le persone ma aspetta si ah no tu vede che nuda si allora va bene vai un saluto alla Svizzera ciao dalla Svizzera un saluto un saluto Parma ex zona rossa no Parma credo sia anche sei tutta Italia Parma mandaci un prosciuttino di Parma vai buono una bella forma di Parmigiano dacci una ricetta con i cr dall'Australia tisi tizi tisi non so come si pronunci piva vai saluta all'Australia Bergamo oh andy un saluto a tutta Bergamo ma che scherzi e che vc seguite da tutti ora io sono così sempre a sciarmi una pancia ma perché non è vero che è la cosa della seggiola aspetta mi hai detto per bene se no e sembro via 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 ma tu luisiti buongiorno apodice ieri gli hanno preso l'assarto no ieri stanotte gli hanno preso l'assarto tutti i supermercati ragazzi io usavo le guerre io mi ricordo nel 90 quando c'era la guerra di golfo di golfo anni e anni fa c'era supermercati voti mancara acqua mancara zucchero mancara ma lì sa c'era davvero un rischio di guerra ci potevamo bombardare davvero ma insomma anche lì comunque c'è una percentuale un po' più alta ma qui in mangiare c'era attenzione perché se no e vorrà dire se andrà tutta a mangiare da robertino che vi devo dire se andrà da robertino a prendere uno spaghettino a un piccialla di aula l'ha fatta con la miscela i due e chiuso e rizzati allora vi do una recettina bupigliate la padella di cane gli dai una risciacquata tanto per dargli una risciacquata così veloce no? poi che bufai? un frittino con il pomodorino di narnali che gli è buono un pomodorino di narnali proprio fresco proprio quello ciliegino preso e lo raccorto nella rotonda cipollina presa in macrolotto e via e rizzati si va a rimestagnare con un gocciolo d'acqua a sfumare dell'arno e una volta che si è fatto diciamo il pappone si va a aggiungere le nostre pennette una volta avesse le pennette si va in cantina si piglia il frullino se avete il frullino di taglia erba e tosa erba insomma ogni cosa vuoleva diciamo 1-0-3 di benzina la miscela ai due e si va a dargli una lenzifonata initecane almeno gli esteri e si può mangiare ricettina di mezzogiorno forza vuoi dare appunto a prendere la ricetta guardate quante centi stamane aspetta ripeto oh vai certo l'acqua la mattina ragazzi fa schifo è una cosa ti fa lo stantino in bocca l'acqua di prima mattina ma che scherzi bagheria 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 mi viene rimoscia domenico provincia di palermo ciao ciao tutta palermo e provincia bagheria un saluto a Livorno andrasse un saluto tutta Livorno sono un ungherese ma parlo Livornese oh boy Livornese parli Livornese oh io sono stato a Budapest a Budapest io l'Ungheria l'ho girata tutta e tutta la macchina ci sono stato un mesetto ma nel 2008 sono stato in Ungheria veramente bella 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 l'ho mangiato veramente bene si mangia veramente bene oh un saluto anche a Marco ciao Marco l'Ungheria ragazzi è bella bella gherbata poi Pacciani Pacciani non castronno scusi signor giudice questo questo gli ha la voce aspetta fammi pensare a Pacciani la ballava fareva il scatto di sta fretto no questo gli è questo gli è quell'altro gli è 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 che posso parlare dal banco e volevo la libertà per andare come faceva aspetta alla come faceva a fare il banner per dire signor giudice posso parlare dal banco e la fare il cazzo di capretto per togli la facciani la santa fare il cazzo di capretto la me lo dice si no concordo con il discorso degli ungheresi si 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 è una cosa bellissima ciao Pistoia Massimiliano ciao tutta Pistoia si va a mangiare ai fame saluto anche ai fame chimica ragazzi fame ve lo porta a casa eh mi ha detto ho vissuto in Toscana per anni appena sarà possibile per fare una mangià come si dè grande mario bravo tutto bene allora la valtellina bellissima la beato fe la sci è un'invenzione dei poteri forti la sci ah si l'ho capita ora si 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 grazie matteo grazie con l'ungheria ci stava bene una bella lo so lo so lo so aspetti mesi in mesi era quello io lo vedi passare signor giudice alle otto le otte un quarto vidi facciani passare qui sotto casa mia ora io volevo dire una cosa alle nove nove meno un quarto il che la si faceva e lo vedi bene era lui e gli ero gli ero era pietro facciani lo sai che fa io sono in casa mi riguardo tutto il processo facciani dall'inizio alla fine lo ristudio tutto io l'ho studiato per anni nel senso per passione dai burundi andrea saluta i burundi io sono nella vigna appienza a violetto io sono nella vagina insomma vai giù angelo un saluto ciao valerio daniele da bergamo daniele ciao chi era sandrone della bistecca americana eh sì va a sapere chi era no l'ho preso l'ho preso da un sito americano vero però un americano del texas è un texano saluti a prao saluti a prao saluti da bergaio allora oberlini quando si può riusci a venirmi a trovare ai bar aspetta eh non mi ha atteso oberlini quando si può venire quando può riuscire a venire a trovarmi ai bar che alessandro leon alessandro martini è un cliente fisso e si parla sempre belli ma spesso per montiapini con martini quando si viene ora quando passerà questo video si viene a prendere un caffè si qualche cosa su empoli c'era i polli all'empole e se avevo fatto due o tre video su empoli poi gli rifarò gli rifarò ora è tanto che non fa i video su posti dedicati tipo empoli pistoia prato lo smannoro si ultimamente ho cambiato un po' genere ci siamo buttati parecchio su delle ricette però diciamo che poi si torna un po' supermercati assaltati poi ho visto tanta gente non ci sono avevo letto qualche professore se messo a fare la scuola all'aperto ma è la solita no folla alla vetone pesciare e ragazzi devo fare l'intelligenza e che gli vuol dire a fare ma lasciare ghiacchiare ma che scherzi ora che hanno chiuso tutte le viste alla fine ragazzi cioè un faremo sempre bene non volevo dire poi c'era delle foto una cosa allucinante ma vi presenta la persona come domenica oppure comunque gli ucciso stanotte è direto un sabato non c'era quindi tra virgolette un però se poteva evitare supermercate e non chiudano il supermercate non chiuderanno dice lanza punto e certo che poi chiudano perché deve chiudere voglio dire già denunciati dieci locali di già sedia oggi primo giorno mi hanno fatto a rimanere aperti di già c'è anche tante notizie cazzate cazzare nel paese scattano le regole uno stato intera ne ho curaci dice vogliamo il blocco di tasse ma lo faranno si spera davvero che vorrei avere certo blocco automatico di tutte le tasse mi farebbe il minimo anche ci succede dice un macello no primavera ci si ripiglia mai dice anche a prato successo un macello ieri anni penitenziario vado l'ultimo con la mia zona profetta profilo allestimento vediamo se ci vuol dire quattro con 29 vai è la neve dice che è sempre galba alla gente purtroppo sì a me non mi fa cacare sì che quella neve tutt'entite quella vera pesciare mi garba ma se si blocca la testa neve osti quella scommetto non si blocca per me guarda gli potrebbero ammazzare tutti proprio io intendo la neve sotto e che in tema mi sa che ha un doppio senso questa neve ciao grande roberto da prao ciao roberto c'è un silenzio stamani gli ho messi capo fuori c'è un silenzio tu senti passavano macchina tortello mugellano che la trovi la ricetta originale ma dei tortelli di foda a me ora non farò vedere che farina è ma c'ho già la farina pronta perché voglio fare tortelli tortelli di fatale c'ho i cinghiani nella congelaia e rizzati fa un bel tortello di fatale lo scongelo e di fodda a me anche sono su mugellani saranno vergaioli verga essi che ti devo dire prataioli però saranno voli comunque un sullino bello unto di fare un bel sughettino salito bello un togliato un bel cinghiale verde un bianco però è no troppo rosso perché se no e diventa comarola mi fa schifo poi allora vuoi cinghiale come lo preferite il sugo è il ragù di cinghiale a tocchi grossi a cicche grosse o più macinato o più fine oppure proprio a spezzatino dentro la pardella ma è la garba più a macinato il sugo la verità vediamo poi che risponde il popolo dei bucaioli popolo dei bucaioli ci vorrebbe gentile di overtino uno solo quello passerebbe il virus e ruttando l'acqua ti posso spedire tortelli ti fa un raccomandata però un po se non posso andare le poste a pericolo è vero è vero è vero è un gelo potuto di mangi dopo se il parmigiano fosse nato allora questa è una domanda per tutti e se dice edoardo se il parmigiano fosse nato a foggia come si chiamerebbe parmigiano parmi con parma già parmigiano è vero parmigiano forgiajano forgiajano foggi spetti parmigiano e come di una persona di parma un parmigiano per miglianese ma li metti in difficoltà mesi su queste cose ho sempre dei problemi a trovare al parmigiano un foggiano fosse una foggia il parmigiano si chiamerebbe foggiano il foggiano il foggiano è vero è la foggiana foggia foggiajano ho messo un rebus e ora il foggiano secondo me il parmigiano anno 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 foggiano anno 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 se fosse nata a quadrata i quadratano se fosse nata a pistoia i pistoletano il pratano se fosse nata bravo e forse a firenze il fiorenziano a voi lo sapete perché io da questo vada riposta posso leggere anche sa leggere paesi i nomi dei paesi va e tanto che non lo rifò origine nome firenze si legge due cose canzi prima che cosa ne facevo è un pochino che diano su firenze dai che dai che si parte a firenze poi si va a paesini più più tipo vignole tipo i barba e tipo il signa lastra campi si aveva l'origine allora in tempo medievale in epoca medievale e nel linguaggio poetico anche fiorenza si chiamava fiorenza prima florentia in latino florenza è un comune italiano del 379 a dice il 379 194 abitanti perché si 300 abitanti l'avea appunto a tempi di medioevo capoluogo si sia si capolò quella toscana il medioevo è un importante centro storico sì ma io voglio vedere l'origine del nome perché la violetta l'altra volta era bella tanto la sapeano e ora si trovato la bella ricerca fiorenzo c'era scritto forse si chiamava fiorenzo però c'era fiore allora forse gli era fiorita mondo sapeano e sì che c'è troppo troppo ora vada da ricercare no no sa più una cosa più veloce no sa più veloce in dove aspetta fanno l'abbiamo trovato l'abbiamo trovato l'altro giorno etimologia e leggenda si può tu sarà una sega veramente le fondamenta della nostra città è anche le diedero il nome florenzia furono i romani a chiamarla florenzia ma non mi torna mia tanto salmi questa cosa ti dico la verità può darsi ma non lo so che magari loro l'hanno ribattezzata per quanto riguarda tuttavia nonostante c'è anche una leggenda e racconta l'origine del nome della città si racconta che quando i romani cercarono di conquistare fiesole gli abitanti riuscirono a sfuggire per molto tempo all'assedio e rifuciandosi dentro le mura quando il re fiorino decise però di rimanere sotto le mura secondo questa leggenda i fiesolani che già fiesole avevi già c'è allora viene da fiori viene viene da fiori c'era fiori a prato c'era pratica campi c'era campi firenze c'era fiori pistola c'era le pistole viene da pistola sui serravalli c'era la pistola comunque vabbè io ti direi andiamo a leggere documenti il foggiano direi dice anche gianluca la calvana è a prato è un diciamo una questa sembra faccio una albana proprio a pochi metri allora se fossi nata a montare fulciano e si è montare fulcianano come si dice ma nemmas prestata ma guarda che quanti clienti stamani che c'è allora via 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 io quarta all'undici tra un pochino con festa e mi metto a cercare qualche video anzi decidete voi allora io no sì a volte un cifatiato cerco di parlare italiano poi a volte dio ma che cazzo me ne frega che stiamo su toscana maia la parlo come si da come si mangia non importa mi mi devo tanto mettere allora vai ritorniamo poi non ci siamo più mi è preso un po la biocco di la verità mi è preso fame robertino ha aperto mille birre corona in un minuto sì sì tu fa l'americano mi dice caro governo e la gente hanno fatto questi discorsi ma gli è rimbombata caro governo mi spieghi perché davanti al supermercato ci può stare tutta quella gente senza stare a un metro di distanza perché non è che il governo va cioè non è che il governo può andare davanti le persone del governo che cazzo c'è il senso sociale degli imbecilli ho detto non c'entra un cazzo il governo perché allora o tu metti l'esercito le spranghe a tirare delle spranghe però se tu lo fai tu sei la testa di cazzo se tu dici nulla allora perché il governo non fa nulla decidevi o quello o quell'altro fosse per me ci sarebbe un tu ci andresti perché ti fermerei prima ma non è che il governo è della gente gli è stupida ma poi a poi dice ai supermercati di turno e non sono di turno sul mercato sono aperti sono aperti supermercati chi l'ha detto sono chiusi sono di turno quella della farmacia caro sindaco per favore suo apertura chiusura dei locali non si può fare non si può fare per sentito dire ma ora sono chiusi ma che te l'ha detto ma vedi anche la gente tagga il sindaco e non si può chiudere i locali e non è che non è il sindaco che fa chiudere i locali ed è una cosa di tutto c'è il mondo addirittura perché si parla di ritalia si parla figlio nostra mondiale non è una cosa di 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 sindaco che fa chiudere dice pensiamo anche a chi chiude ho capito ma allora ammalare i pepe sordi pesordi di merda preferite ammalarvi e cazzi vostri che vi devo dire io la penso così poi mi sembra di essere una manda di rimbombati io te lo dio sinceramente addirittura c'è il mercato stamana scandicci vedo dalle foto e quindi un son chiune niente chiuso ma poi questa paura di morire di fame un bus e aiuta a dieta tutti i grassi a dieta tutte queste di effetti a guardarsi fare la dieta fino ai 3 diceva con casa via un simone fame non hai paura eccola se fosse nata a montale no a saverio di pasquale maestro maurico piaggio del mitico chef ah sì 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 quello del miracle blade è purtroppo sono doppiaggi con i copyright non si possano fare non posso pigliare il miracle blade e faccio il doppiaggio perché me lo cancellano dopo un minuto per copyright però uscirà delle cose molto simile a codeste lascerei lascerei sì ma fatti ma tanto per dire infatti no è lo so è vero questo dovrebbe bastare a far capire che cervelli in fuga esso ma poi in fuga fatti hanno detto bene che si viene in fuga per tornare in zona rossa un'altra volta di colpa di due ischieri si spera nell'attacchi finina si e aspetta aspetta settimana prossima tutti mediante nei sorti da ma io sentivo l'altro giorno per dire no c'era qualcuno di folle davanti alla mia porta qualche vicino di casa e ragionava ma sì io ma che io ne vero nulla io mi metto nulla mi metto le mascherine io faccio l'uguale sì a me mi importa una sera per colpa di questi imbecilli che a tutta a cogito sentire i discorsi di lei ancora quindi si continua ancora ha fatto e allora che ciò fare e poi c'è quegli che vanno a farle foto a giro quelli sono meglio che gli vanno ora che restano apposta per farle foto per dire ha visto guardate la gente è uscito uguale a vergognare che s'andava a farla foto al giro se si sorti anche se mischiero voglio dire a reparto c'era di pulizia bravo no 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 un avvio avevo letto un'altra cosa pensavo sì 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 è vero è vero ciò ciò ma la cina lancia la raccolta fondi più avuta d'italia ma di certo ma cinesi sono ragazzi sono forti sono anche schede la gente ragiona male quindi pensai ad italiani no cinesi dai in casa prima che ci sa di peggio noi invece di sta a farne a male dei cinesi di tutto il mondo visto le figurucce di merda e si fa da sempre in tutto il mondo se ne è fatta anche di belle e per carità ma sono più quelle brutte da milette allora la sciola e la sciola ed è fatto vai allora vediamo un pochino allora vi ho letto di anzi un commento e ancora gulasch buon bocca ponci ma io mangiavo di tutto buono vogliamo anche una bistecca mangiai fenomenale ciao simone un saluto a roma ciao 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 ea tutti i romani grazie a roma possiate un sacco a seguimi parte a roma a milano napoli a bari a foggia a turino bologna no bologna no bologna non ci seguono porca bologna si no c'è bologna si vede la verità sono fra pochi che ogni tanto mi famano e allora si è meglio pace a me mi garba bologna via bologna uguale perché bologna è bellissima che fa un altro e la mortazza è favolosa la bologna si ragazzi la bologna si intendo la mortadella io la chiamo la bolognese ma sarebbe la mortadella la mortadella bolognese o la schiacciata toscana salata è qualche cosa di di fenomenale ma la gente le di apperzichiamo vanno a cercare questi piatti ora c'è la cucina gourmet vanno a mangiare il gourmet se tu gli dai piatto piattino deve essere così verde con la carrosa messa per traverso perché quello per rito perché se ne è fatto differenze e ma lì c'è la ricerca scientifica di mangiare il sapore gusto che gli hanno i palafine la gente gli ha i palafine poverina gli hanno i palafine ma gli hanno il prodotto gli fa schifo gli ne vanno c'è un po' gli ingrassano e gli ingrassano i salami di l'ho visto le pare io ragazzi via ma che sta scherzando ma che sta scherzando davvero delle cose allucinanti e gente una mangiata un panino per dire davvero c'è gente davvero ragazzi figlioli non hanno mai sentito una trippa alla fiorentina una bella via o un lampredotto perché perché gli fa gli è come si dice gli è morbidiccio la bistecca la fanno cocere per due ore in forno perché deve arrivare la temperatura perché se dopo va là perché l'avevano più morbida l'avevano meglio poi va messa nel forno va colta nell'acqua stoviglie però tu gli dai un panino con il tagliato un pochino più grosso no che schifo no no come calma eh ma io ho visto anche gente il grasso cioè davvero dai salami si l'ho già detto ora cose allucinanti io sono bolognesse e della pietra italiana ma ciao cristiano cristina scusa ciao cristina ma che io bologna gli è forte eh grazie a me di garba io a bologna ci sono stati tantissime volte tanto di che a bologna c'è poco io in 40 minuti stanno a bologna su strada a uno che gli è andata uno o la undici non mi ricordo più comunque pistoli a bologna e c'è poco ci ho fatto diverse serate a bologna diciamo serate proprio per divertirmi bologna è ganso a bologna tu va in centro e tu trovi e tu trovi che c'è la gente a fare studenti a bisboccia fino alla mattina alle 6 rave improvvisati ma che scherzi hai il livello hai il livello hai il costo c'era il livello 77 e poi c'era l'altro locale punk che io frequentavo solo posti punk e fricchiettoni ma insomma roba cottina un fa per me quindi tante se rotti il microfono su net è venuta la voce a baritano perché ragionavo sì insomma però non vedo ma fammelo leggere commento sotto allora fa sentire è tutto a posto vai fari sentire degli annavoli inveglie ito inveglie ito inveglie ito inveglie senti che voce profonda per te ragazzi ok roba e aspetta l'oristacolo rimetto